Ciao, io mi chiamo Sidney e questa è Peppa. Ciao Peppa, che fai? Io sono venuta a piantare un ananas! Ma dai, io invece sono venuta a piantare un'anguria! Per prima cosa, dobbiamo scavare un po'. Ecco fatto! Peppa, fatti dare una mano! Oh, grazie! Oh, non hai un innaffiatoio? Io me lo sono dimenticato! Ma certo Peppa, guarda com'è bello il mio innaffiatoio! Adesso ti faccio vedere come funziona! Wow! Mamma mia, ma come hai fatto? È grandissima! E come ho fatto? Il mio innaffiatoio è magico! Lo vuoi provare? Sì, dai! Cresci, cresci! Guarda come sono grandi! E io sono rimasto piccola piccola! Vediamo che cosa succede se innaffio anche te! Siediti qui! Com'è fresca! Mi stai facendo la doccia! Sono diventata grande anch'io! Ahah! E ti va di vedere come possono crescere ancora di più l'ananas e l'anguria! Ma davvero? Ma sì, dai! Ok, guarda qua! Oh, mamma mia! Come sono finita in alto! Ahah! Ecco che cosa succede quando hai un innaffiatoio magico! Che dici? Ti faccio ancora un po' più grande! Sì, dai! Siediti qui! Ti faccio un'altra bella doccia! Che piacevole! Come sei diventata grande! Sì, sì! Sta crescendo proprio in fretta! Sì, dimmi! Anche a te ti innaffiavano per farti crescere! Ahahah! A me se mi innaffiavano! Non mi ricordo! E a te ti innaffiano per farti crescere! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.